Ciao e benvenuto sul mio canale. Se non mi conosci io sono Massimo, sono un imprenditore digitale e in questo canale parliamo di business online, tecnologia e crescita personale. Nello specifico oggi voglio spiegarti, come veisto dal titolo della copertina, come è possibile imparare davvero a fare business online ma in maniera seria, non che ti dicono che fai miliardi e poi non ottieni un bel niente. Ovviamente per iniziare a guadagnare dei soldi online, a crearsi un'attività online, cominciare a poter guadagnare e crearsi anche delle reddite passive, che poi andremo a vedere che cosa sono, bisogna fare determinati step. Anzitutto bisogna formarsi e imparare a fare le cose. Ci sono due modi per poterlo fare. O ti metti lì con calma e cerchi di imparare, imparando anche ai tuoi sbagli, e ci vuole del tempo o ti formi con dei corsi di formazione. Te lo dico perché ovviamente è anche vantaggio mio dirtelo, perché ho dei corsi di formazione professionali che vendo tramite il mio sito web, eccolo qui, massimopellegrino.net, tra cui i due che ti sta a consiglio sono quelli per aprire un canale YouTube partendo da zero e farlo diventare un vero asset per promuovere i tuoi prodotti sia fisici che digitali, inclusi prodotti venduti in affiliazione, a 199 euro, e il corso KD Pro, che è un corso completo per tutti, per chi parte da zero, per imparare a scrivere libri con l'intelligenza artificiale e venderli su Amazon. Tra l'altro non è che ti spiego solo come crearli e venderli, e poi tanti saluti, perché, come già qualcuno di voi mi ha chiesto, perché il corso non solo ti spiega come creare libri, come pubblicarli su Amazon, come farti vittare dall'intelligenza artificiale, come trovare le keywords, le parole chiave, i trend, analizzare la concorrenza, riuscire a ricevere le recensioni per poter vendere di più e quant'altro, ma ti insegniamo anche a creare le campagne pubblicitarie. Dove sta il bello? È come creare le campagne pubblicitarie, perché se nessuno ti conosce, se non hai una community, non vendi. Noi ti insegniamo a creare le campagne pubblicitarie davvero marketer professionista. Quindi ti spieghiamo dalla A alla Z, da tutta la sezione di marketing di Amazon Kindle Direct Publishing. Ovviamente il corso KD Pro include una ventina di lezioni, che puoi consultare qui. Eccole qua. Qua ci sono scritte tutte le lezioni, e questa è la lezione dove spieghiamo come creare le campagne pubblicitarie in maniera professionale. Quindi non è che ti diciamo come creare le campagne pubblicitarie così gestite in autonomia da Amazon, ma te le facciamo gestire davvero professionista. Quindi ottimizzare ogni singolo costo per click per ogni keyword, decidere dove deve comparire la pubblicità del tuo libro, vicino a quali altre opere, a quali codici asin, ottimizzare anche la campagna, cioè analizzare la campagna pubblicità. Ti insegniamo tutto, oltre che tutto quello che c'è scritto nelle venti lezioni. Poi ovviamente se vuoi aggiungerci 60 euro, con 60 euro in più ti regaliamo, tra virgolette, un libro scritto per te, appositamente per te. Deciderai tu il trend, ti diamo noi dei suggerimenti per dei trend profittevoli. Ti forniremo dieci titoli e tu sceglierei uno di questi dieci titoli, noi ti scriveremo il libro nel giro di 24 ore, completo di copertina, pronto da pubblicare su Amazon, seguendo le indicazioni del nostro corso. Tieni presente che è ottimo come prezzo, perché con 259 euro hai il corso, che costa 199 euro, con 60 euro in più il libro scritto, che noi vendiamo solitamente a 259 euro solamente il libro. Quindi è un affarone, capito? È un affarone. Quindi mi raccomando, approfitta di questa offerta. In più, quello che noi consigliamo sempre per riuscire a iniziare un business online, a vendere qualcosa online, perché business online vuol dire anche vendere online, è crearsi una community. Come te la crei? Con YouTube. Creando cosa? Un canale YouTube ottimizzato, sia dove tu ci metti la faccia, o in modalità Cash Cow Channel, dove non ci metti la faccia, quindi dove generi video con intelligenza artificiale. Noi te lo spieghiamo nel corso. E adesso ti mostro nello specifico. Ecco, qua ci sono indicate anche tutte le lezioni del corso. Se si parte da zero, cioè tu non sai nulla di... Aspettate che sposto l'immagine. Ok. Tu non sai nulla di... Parti da zero, come si crea l'account Google e Gmail, a come si crea il canale, il canale del brand, il logo, l'ottimizzazione SEO, le keywords, come si creano... Ti facciamo vedere come creare i video con l'intelligenza artificiale, con due tool di intelligenza artificiale, che nello specifico sono specifici, proprio per creare video per Cash Cow Channel. Quindi, tu addirittura puoi dirgli su che cosa vorresti il video, e di che lunghezza, e lui ti crea in automatico tutto. Non devi neanche metterci il testo, fa tutto lui. Quindi ti spieghiamo tutto, tutto da perfile per segno. E stanno per uscire anche altri video corsi, dove ti spieghiamo appunto come creare un sito web, come creare un blog, come creare un e-commerce. Saranno dei video corsi fantastici, perché tutto questo, Forti, permette di avere un bagaglio culturale, per iniziare a fare business online, veramente in maniera seria. Quindi i nostri corsi sono stati creati su quello che io ho sperimentato, sulla mia pelle, personalmente. Quindi, assolutamente, vedi questa nata, prima di quello che si vede poi durante il corso, tra l'altro, ti spieghiamo anche come guadagnare con il marketing di affiliazione, tramite YouTube. Quindi come guadagnare, promuovendo prodotti venduti da altri, e tu guadagnare delle provisioni. tra cui è possibile anche andare a guadagnare dalla vendita anche dei nostri prodotti, perché io stesso i miei video corsi ce li ho anche su Gumroad, ok? Ce li ho su Gumroad, e ti faccio vedere nello specifico quali sono. Eccoci qua. Ok, eccolo. Questa è la pagina del mio store su Gumroad, dove ci sono i miei video corsi, le mie opere, tutto pubblicato, dove tu puoi guadagnare tranquillamente il 10% su ogni vendita che effettuerai. Non la paghiamo direttamente noi, ma paga direttamente la piattaforma, mensilmente, ti fornirà la tua provvigione del 10% sulle vendite. E ti insegniamo tutto anche nel corso YouTube. Quindi con YouTube puoi promuovere i prodotti in affiliazione, promuovere i tuoi infoprodotti, promuovere i tuoi video corsi, promuovere i tuoi libri. Imparare a scrivere libri con il corso KD Pro è un bagaglio culturale completo. Poi, se hai piacere, invece, ti possiamo fornire della consulenza dedicata acquistandola direttamente qui, quindi cliccando qui acquisto un'ora di consulenza, puoi acquistare un'ora dove ti faremo una call dedicata per aiutarti nella, come posso dirti, per aiutarti nel, in tutto quello di cui tu hai bisogno, che sia il canale YouTube, qualunque cosa, qualunque cosa, che riguarda anche il business online, tutto quello che vuoi. Inoltre, infine ti volevo dire anche questo, che comunque forniamo anche servizi di e-commerce, quindi se vuoi un e-commerce, non sei capace a farlo, te lo costruiscono, non lo puoi acquistare direttamente il servizio di qua, noi in 24 ore circa, 24-48 ore, ti forniamo un e-commerce fatto finito per vendere i tuoi prodotti, soprattutto quello che ti consiglio è vendere i prodotti digitali, poi vabbè, qua sul mio sito trovi una serie di, aspettate che sposto un attimo la mia immagine, ok, trovi una serie di prodotti, anche tipo, vuoi acquistare solo il corso per imparare a fare le campagne pubblicitarie, lo puoi fare, eccolo qui, è questo qui, poi ti realizziamo i video con i videocorsi, vuoi vendere un videocorso da un libro che hai scritto o che ti abbiamo scritto noi? Noi con 299 euro te lo facciamo, e tieni presente che a vendere un videocorso se ci fai 200 euro te lo sei già ripagato dopo due vendite in modo stra-abbondante, così come la creazione di audiolibri, quindi hai un libro pubblicato su Amazon, vuoi vendere anche l'audiolibro tramite Gumroad, tramite un tuo e-commerce, vuoi fare un canale YouTube ma sei pigro, non vuoi fare i tuoi video? Te li facciamo noi, 99 euro a video, te lo facciamo noi un video di 8-10 minuti, in più, non hai la pazienza per scrivere libri, te li scriviamo noi, cioè noi con 699 euro ti scriviamo 10 libri, 10 libri, e vatti a vedere il video dove spiega come si possono guadagnare 297 mila euro vendendo 1000 libri su Amazon, ok? Sì, perché se tu ragioni, hai 10 libri, hai 100 libri, fai 100 libri, ci metti con l'intelligenza artificiale un'ora a libro, ok? Sono 100 ore di lavoro, hai tutti i libri in italiano, poi li fai tradurre dall'intelligenza artificiale in 10 lingue e quindi hai 1000 libri, 1000 libri in vendita, cioè se è pazzesco, voglio dire, riesci a fare veramente delle cifre da capogiro, ok? Anche perché, adesso apriamo la solita nostra calcolatrice, se noi vendiamo un libro, di ogni libro ne vendiamo solo una copia al mese, una sola, che è pochissimo, ok? Sono 9900 euro per 1000 libri in un mese. Amazon ti riconosce, facciamo la versione cartacea che ti riconosce solo il 60%, 5940 euro senza fare nulla, tu hai pubblicato questi libri, saranno lì e ogni mese ti generano questi soldi, vendendo solo una copia al mese, una, non una copia al giorno, una al mese, cioè quindi le potenzialità dell'online sono incredibili, però devi imparare a spingere le tue pubblicazioni, altrimenti non riuscirai a vendere i tuoi prodotti, noi te lo insegniamo nei nostri corsi, quindi vieni a trovarci sul sito massimopellegrino.net, mandateci pure anche una mail a info massimopellegrino.net, io e il mio team saremo lieti di risponderti, forniamo anche consulenze dedicate, siamo veramente soddisfatti perché stiamo creando un percorso professionale di business online che sta veramente spopolando, grazie veramente di cuore a tutti voi perché state credendo in questo progetto e stiamo ottenendo ottimi riscontri e veramente quello che sto facendo è rendervi partecipe delle mie competenze, delle mie conoscenze che ho messo in atto per iniziare a crearmi un'attività online ormai da qualche anno e quindi io guadagno dei bei soldini online grazie a tutto quello che ho imparato e a voi vi accorcio i tempi perché voi con questi corsi che costano veramente un'inezia accorciate i tempi invece che metterci 4, 5, 6 anni come ho fatto io a imparare, a fare, a bregare vi viene insegnato tutto e potete iniziare si possono guadagnare più di 10.000 euro al mese sia con youtube dalla monetizzazione dalla vendita dei vostri prodotti dalle affiliazioni dalle consulenze quindi se volete fare consulenza siete dei consulenti cioè potete fare delle cose incredibili in più ci affianchi la vendita di libri veramente ragazzi si aprono altro che 10.000 ma qui superi 20k al mese quindi fidatevi ve lo dico per esperienza iscrivetevi al canale attivate la campanella per notifiche mettete un bel like commentate così mi aiutate a salire con l'algoritmo di youtube e quindi a poter guardare un po' più di soldini a portarvi sempre più contenuti su questo canale io vi aspetto andate a vedervi anche la playlist corsi completi gratis dove c'è giornate in onore giornate di formazione gratuite sul business online e se siete interessati a fare sul serio acquistate i videocorsi che trovate sul sito massimopellegrino.net per qualunque dubbio potete mandarmi una mail io e il mio team saremo ben lieti di rispondervi alla prossima ciao